Musica Per me è una vaporina, una vaporina del lago è il recupero di un layout di barche della Vellepoc nel nostro lago e riadattate con delle carene moderne la barca è la quarta di una serie che è iniziata due anni e mezzo fa una parte di queste barche sono servizio di una società che lavora col cantiere con un classic boat e fa servizio per i grandi alberghi del territorio e per personaggi famosi Musica Una costruzione classica, facciamo incrociato sulle murate ovvero un incrociato di cedro poi a seconda dei casi se la finitura legno o un orizzontale legno o in alternativa un orizzontale in legno a vista in alternativa sempre un incrociato ulteriore tutto con incollaggio possidico sotto vuoto la motorizzazione varia dalle prime a motore termico quest'ultime sulla scia di quel percorso che abbiamo intrapreso sono tutte barche a motore elettrico Musica 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 Musica